ciao amici sono mario di cubicatura visone e oggi faccio questo video dal mio laboratorio voglio farvi vedere i prodotti che uso per la cubicatura oggi aspettavo il mio ordine da cubicando ed eccolo qui adesso lo apriamo e vi farò vedere i prodotti che ho acquistato all'interno troverete i prodotti protetti per il trasporto ecco qua ho preso poche cose ma utilissime e ve le farò vedere allora ho acquistato il primer nero che si utilizza per il carbonio poi il primer bianco sempre per la cubicatura e l'attivatore allora tutti questi prodotti potete trovarli sia in bomboletta che in bottiglione come le ho acquistate io per il fai da te troverete primer bianco nero e tanti altri primer sempre in bomboletta con l'attivatore oppure in bottiglie per l'utilizzo di pistola spray cosa posso dirvi potrei stare qui a spiegare ore e ore la cubicatura ma c'è pubblicando a me non mi rimane che provare i miei prodotti e vi consiglio se volete entra a prendere questa nuova avventura e conoscere la pubblica dura vi consiglio comunicando ciao amici alla prossima io ora vado a provare i miei prodotti per la cubicatura ciao